ah ma quindi curati si blocca mi piace questo sarebbe solo tre trecento cure e qualche cildino no le granate appiccicose mamma mia che ricorda che c'è un po' una c'è una c'è io voglio un po' cos'è oddio cosa mi ricordo che cos'è tipo quell'uccello che vola e quindi il massimo dei materiali e 500 l'uccello che tu lo mandi volando dove si trova la cesta e fa altre cose un e te porti si chiama come si chiama l'uccello scusa roberto come cazzo stanno facendo questo ma questo c'è dove cazzo siete io non vi trovo proprio io non trovo nessuno in verità solo io io sto solo quale ho molta paura vai roberto all'attacco vai roberto all'attacco vai roberto oh calma di bro cazzo roberto è trovato a me che uccello inutile con la merda roberto grande sei un grande roberto basta cazzo ma dove ho sparato aspetta ti mando roberto vai roberto vai roberto ma prova solo a messo lo betto no mi sono state da dietro da dietro da mangi che tutto parte lo betto non devi trovare ma ma che cazzo dove cazzo scappato oddio proprio proprio dietro aiuto aiuto roberto 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 sei l'uccello più inutile che abbia mai conosciuto tutta la guerra roberto sei l'uccello più inutile che abbia mai conosciuto tutta la guerra che cazzo è successo mi prego vabbè dai roberto almeno ci ha aiutato grazie grazie roberto